Articolo 1 della Costituzione L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro E oggi, primo maggio, ci occupiamo proprio di questo, e cioè di lavoro Innanzitutto, l'Italia è fondata sul lavoro? Beh, ovviamente sì! Come tutte le nazioni, ogni nazione per poter crescere e prosperare è fondata sul lavoro Un tempo solo umano, ma grazie alle rivoluzioni industriali anche quello delle macchine e dell'informatica Ada Smith direbbe che uno Stato, una ricchezza di uno Stato, si basa sulla suddivisione del lavoro Suddivisione che lavoro, che permette la crescita economica e la prosperità Ma, rispetto a tutte le altre nazioni, l'Italia probabilmente è meno fondata sul lavoro rispetto a tutte le altre Perché dico questo? Perché basta guardare i dati E oggi faremo proprio quello, guardare un po' di dati e vedere come è costituito il mercato del lavoro italiano odierno Innanzitutto, un primo dato che ci dovrebbe già far riflettere E cioè che su una popolazione di 60 milioni di abitanti, solo 23,4 milioni stanno lavorando In pratica, su 5 italiani, solo 2 stanno lavorando E ovviamente questi 2 lavoratori sostengono anche gli altri 3 che non stanno lavorando Quindi immaginate come stiamo messi nel mercato del lavoro E basta guardare anche i tassi di occupazione italiani paragonati con quelli degli stati dell'Eurozona L'Italia ha un tasso di occupazione del 63,5% Il penultimo all'interno degli stati dell'Eurozona Davanti solo a quello della Grecia Ad esempio la Germania, che è prima in questa classifica, ha un tasso di occupazione dell'80,6% Dati molto preoccupanti Sembra un discorso un po' banale, però ogni tanto ce lo scordiamo Meno persone lavorano e più ci saranno persone che dovranno essere sostenute da quei lavoratori Quindi andando a aumentare le tasse su quei pochi lavoratori che lavorano in un paese Cosa che attualmente sta succedendo in Italia L'Istat ci dice anche che il 77,4% dei lavoratori è occupato come dipendente Mentre il restante 22,6% è occupato come lavoratore autonomo Ok, però quando parliamo di tassi di occupazione non parliamo mai dell'elefante nella stanza Perché quando appunto parliamo di tassi di occupazione, parliamo di tassi di occupazione in generale Compreso quello maschile e femminile Beh, in Italia fare una cosa del genere è estremamente deleterio Perché ci sono delle differenze enormi tra il tasso di occupazione maschile e quello femminile Infatti, se per quanto riguarda il tasso di occupazione maschile in Italia arriviamo al 73,4% E ci distanziamo solo di 10 punti percentuali rispetto alle prime nazioni dell'eurozona Nonostante siamo i penultimi anche qui in questa classifica Se spostiamo l'attenzione dal tasso di occupazione maschile a quello femminile Le cose cambiano totalmente Infatti, anche nel tasso di occupazione femminile siamo penultimi Ma la percentuale non è più del 73% bensì del 53,8% Il tasso di occupazione femminile è pari al 53,8% Penultimi nella classifica dell'eurozona Il problema qual è? È che se nel tasso di occupazione maschile c'era un distacco di 10 punti rispetto ai paesi primi di questa classifica Nel tasso di occupazione femminile c'è un distacco di 10 punti Tra noi, che siamo penultimi, e il terz'ultimo, che è la Spagna Con un tasso di occupazione del 62,1% Fino ad arrivare alle prime nazioni, come ad esempio la Germania Con un tasso di occupazione del 76,6% Quindi l'Italia ha un tasso di occupazione femminile del 53,8% La Spagna, terz'ultima, ha un tasso di occupazione del 62,1% Mentre la Germania arriva a un tasso di occupazione femminile del 76% Capite che problema abbiamo all'interno del mercato del lavoro italiano oggi? È un problema enorme e che l'opinione pubblica e la politica non citano mai Immaginate se l'Italia riuscisse a recuperare da questa statistica 10 punti percentuali Arrivando almeno alla statistica della Spagna con un tasso di occupazione femminile pari al 62% Beh, ci sarebbero dei grandi vantaggi nel mercato del lavoro e anche per quanto riguarda Il PIL del paese Italia E quindi è un tema centrale, che dovrebbe essere centrale nell'agenda politica e dell'opinione pubblica Ma di cui non si parla mai Il tasso di occupazione femminile E la partecipazione al mondo del lavoro delle donne Abbiamo parlato di tasso di occupazione e quindi è giusto anche parlare di tasso di disoccupazione E vorrei introdurre questo argomento mostrandovi questa cartina dell'Unione Europea Come vedete basta guardare la cartina per comprendere tutti i problemi che ci portiamo dietro Per quanto riguarda la questione meridionale Che si vede anche in questo caso E se vogliamo possiamo vedere anche una questione meridionale Non solo all'interno del contesto italiano Ma anche all'interno del contesto europeo Dove i paesi come Italia, Spagna, Grecia Insomma anche la Francia Hanno dei tassi di disoccupazione molto superiori rispetto a quelli dei paesi del nord Tra l'altro nelle prime 12 regioni europee con il più alto tasso di disoccupazione Ben 3 regioni sono italiane E stiamo parlando della Calabria con un tasso di disoccupazione del 21% E della Campania e della Sicilia con un tasso di disoccupazione pari al 20% Quindi in Italia nel 2019 abbiamo avuto un tasso di disoccupazione pari al 10% Però poi possiamo anche vedere i tassi di disoccupazione in base alle macro aree dell'Italia Infatti nel nord ovest abbiamo avuto un tasso di disoccupazione pari al 6,5% Nel nord est pari al 5,5% Nel centro 8,7% Nel sud un tasso di disoccupazione pari al 17,2% di media Mentre nelle isole un tasso di disoccupazione pari al 18,5% E anche i tassi di disoccupazione giovanili sono preoccupanti Arriviamo addirittura a un 29,2% per quanto riguarda il tasso di disoccupazione giovanile all'interno dell'Italia Con ovviamente cifre per quanto riguarda il sud Italia che arrivano addirittura anche al 49,7% nelle isole e al 43,7% nel sud Italia Ritornando alla tabella iniziale vediamo come il mercato del lavoro sia composto anche non solo dagli occupati e dai disoccupati ma anche dagli inattivi All'interno degli inattivi ricadono tante figure ma in questo video mi vorrei soffermare su due figure ben precise E cioè i pensionati e i NIT Partiamo dai NIT NIT è un acronimo inglese che sta per neither in employment nor in education and training Sta praticamente ad indicare ragazzi tra i 15 e i 34 anni che non sono né occupati Non stanno neanche usufruendo di un qualche tipo di istruzione E neanche stanno partecipando a dei corsi formativi per poter entrare nel mondo del lavoro Sostanzialmente non stanno facendo praticamente nulla Non sono attivi all'interno della società e nel mercato del lavoro Per questa statistica invece buone notizie Siamo primi Peccato che la statistica sbagliata per essere primi Infatti abbiamo un tasso di NIT pari al 23,8% Significa che tra i ragazzi tra i 15 e i 35 anni il 23,8% non sono né occupati Né stanno soffrendo di un'istruzione e neanche stanno conseguendo un percorso formativo per poter entrare nel mercato del lavoro È molto importante tenere d'occhio questo indice perché questi ragazzi avranno molte difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro Perché il mercato del lavoro richiede o un'adeguata istruzione oppure una certa esperienza nel proprio settore E purtroppo questi ragazzi non hanno nessuna delle due componenti E quindi avranno estreme difficoltà ad essere produttivi all'interno della società Purtroppo all'interno dell'opinione pubblica di tutti i giorni Io personalmente poi non lo so magari una percezione sbagliata Sento molto poco parlare di questo aspetto Aspetto cruciale per permettere a questo paese di poter di nuovo ritornare a crescere Quindi cosa ci rimane da analizzare in questa torta del mercato del lavoro? Beh ovviamente i pensionati Che in Italia sono 16 milioni di persone Pari al 25% dell'intera popolazione Quindi abbiamo un 40% di persone occupate in vario modo Chi come dipendente, chi come autonomo E tra i dipendenti ci sono ovviamente anche quelli part time Quelli a contratto indeterminato, quelli a contratto a termine Quelli full time eccetera eccetera C'è un 25% di persone pensionate E poi il restante 35% della popolazione Fanno parte persone disoccupate in cerca di lavoro e inattivi Tra cui anche questi NIT Che sono molto preoccupanti Per quanto riguarda il tema del mercato del lavoro Pensate che spendiamo il 16,2% del PIL in spesa pensionistica E siamo il secondo paese in Europa a spendere così tanti soldi Per quanto riguarda le pensioni Lo stato che ci supera in questo senso è la Grecia E questo numero è destinato ad aumentare Visto che i baby boomer stanno entrando nel periodo della pensione E quindi ci saranno sempre più costi da trasferire Dalle persone che lavorano alle persone in pensione Ovviamente questo con enormi problemi sociali e anche economici Per quanto riguarda la crescita economica del paese Infatti se vediamo le statistiche Vediamo come le persone pensionate Sono delle persone che hanno una ricchezza maggiore Rispetto ai giovani o comunque alle persone che stanno lavorando Creando una vera e propria disuguaglianza intergenerazionale Infatti ad esempio l'Istat ci fa vedere proprio come L'importo medio delle pensioni sia esploso Rispetto ad esempio alle retribuzioni medie dei lavoratori dipendenti Creando un enorme gap man mano dal 2008 in avanti Un altro dato interessante è proprio vedere un'altra tabella dell'Istat Che ci dice come le famiglie con pensionati Rischiano meno la povertà rispetto alle famiglie senza pensionati Sostanzialmente il pensionato è una vera e propria assicurazione Per la ricchezza della famiglia E questo dato non ci vuole dire Grazie a Dio ci sono i pensionati Anzi ci sottolinea proprio questa divergenza generazionale Tra pensionati e lavoratori e soprattutto ancora di più i giovani Insomma con questo video vi volevo fare un quadro generale Del mercato del lavoro proprio oggi Festa del lavoro Ovviamente le cause di alcuni problemi che abbiamo analizzato sono molteplici Ad esempio potremmo parlare della scarsa efficacia dei percorsi formativi E del passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro Un sistema di tassazione sclerotico Oppure possiamo anche parlare delle imprese poco produttive Che caratterizzano il sistema produttivo italiano O ancora di nuovo il governo O comunque le istituzioni italiane Che pensano più a sostenere i pensionati Rispetto ad incentivare il lavoro dei giovani Come tante altre cause di cui non vorrei occuparmene in questo video Però è importante almeno conoscere i problemi Che affliggono il mercato del lavoro odierno Almeno alcuni di questi ovviamente non sono gli unici Quindi per concludere Sì, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro Ma magari, chissà, tra dieci anni Sarà fondata sulle pensioni Cosa molto probabile E quindi il mio augurio è quello di pensare un po' più ai giovani E al mondo del lavoro Agli occupati Alle persone che vogliono un lavoro Ai NEET Alle donne che cercano un lavoro Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao